Ciao a tutti, da Salvatore Massimo Faccio di Letto, riletto, recensito, blog che ha le sue pagine su Facebook, Twitter, Instagram, il canale YouTube e anche il gruppo Quelli che, letto, riletto, recensito, quello che si va a recensire oggi non è un libro recente, ma di qualche anno fa, 2014-2015. L'autrice e autore frola, piemontese di Ivrea, che ha scritto I ricordi non si lavano per i tipi di edizione della sera, eccolo qui, insomma, come sono ormai le case editrici indipendenti che stanno dando delle ottime sberle agli editori, alle grosse major che sono in asse 3 e 4 in tutto il panorama nazionale. Un libro importante perché si affronta la storia di Angelica che vive in un ambiente bigotto a livello familiare e per uscire da questo ambiente bigotto prova a studiare nell'area dell'arte delle cose fino a quando prova a trovare se stessa e finisce tra le braccia di un amore, di un ragazzo nel quale si innamorano e sono botte, sono crisi e sono crolli psicologici, sino ad arrivare per curarsi con miscuglie e miscellane di abusi di psicofarmaci, ansiolitici, droghe e alcol. Ma in una maniera parecchio pesante, proprio devastante, tant'è che si riduce Angelica, che è la protagonista, quasi ad essere una larva. Anche l'aspetto estetico, quindi quel rituccionismo estetico che ritroviamo in Maglio Sgalambro lo scorgiamo in questo romanzo. Il rigore di vestirsi e di truccarsi e di essere completamente a lutto, abbigliamento di colore nero, trucco nero, qualche tatuaggio e qualche colore in più che ve uscilla fra il viola e il fucsio. C'è il fucsio, c'è un funereo, un morto che cammina. E tutto quanto gira attorno a Angelica, sinquanto la stessa si rende conto di stare male, se ne accorgono anche gli altri, viene ricoverato presso una struttura psichiatrica perché le condizioni mentali e anche fisiche non vanno più bene. Lì dentro però Angelica è un soggetto parecchio lucido e comprende, nonostante i disagi, che non è ambiente suo. Però ci deve stare e allora comincia a solidarizzare con le compagne di stanza, di struttura, di casa, diciamo così, dove si accorge che gli operatori e le operatrici così buone e sante non sono. È una denuncia tutto sommato al fatto che non vi sono sempre degli operatori all'altezza, mentre qualcuno lo preserva. Addirittura il portinaio dell'ingresso è la cosa, poi tenta un abuso su lei e lei per sfacciataggine, si apprendete poi lo sfacciatamente, ma giustamente lo sputtana, è il libro del 2014-2015, però non affronta solo le tematiche di droga, psicofarmaci e alcol utilizzati in maniera smutata, ma anche in maniera leggera. Quanto danno possono fare e anche quanto bene possono fare, se controllati, misurati e quant'altro. Anche la relazione con la psicologa è molto importante perché ad un certo punto si rende conto che la psicologa, mettiamo un po' di esempio, la psicologa tenta di aiutarla, ma con gli strumenti che ha, gli strumenti degli psicologi spesso sono degli stimoli importanti che però sono sempre complessi da riuscire a metabolizzare, al fine di poter risalire la china nel baratro in cui si è caduti. Perché il titolo? Il titolo è importantissimo, non viene spiegato ma lo si evince poi nel momento in cui si legge tutto il libro. I ricordi non si lavano, in qualche maniera Angelica riesce a risalire la china, ma questa risalita di china nel paradosso è grazie a questi ricordi, ma non perché è ricordi di questo vissuto triste, di un innamoramento che poi le ha fatto tanto male, senza dare la causa totalmente al compagno, però succede che questi ricordi che non si lavano non sono da esempio per non rifare certe esperienze, bensì per nel momento in cui riemerge e torna una vita più giuliva, più serena che più giuliva, tornano come fantasmi ed avere la forza un attimino di cancellarli, quel coraggio, quell'immediatezza, quella determinazione, quell'avvicinamento anche spirituale che permette di spostarli, allontanarli ma non cancellarli del tutto. Libro che ancora si trova in tutti gli scaffali delle librerie ed è consigliatissimo a un prezzo di 14 euro, ben curato, come ho detto prima, i casi editrici indipendenti stanno andando sberle ormai alle major, è consigliato. A seguito di questo video leggerete la recensione, la votazione che darò a questo libro, e basta. Seguiteci sul sito salvatoremassimofazio.it, nel menu, passate il cursore, la voce letto, letto, recensito e si apre la tendina con tutte le recensioni che ad oggi stiamo facendo, li costiamo, non perché sono trino o per curare le maestate, se si utilizzare perché ho dei collaboratori validi, e basta. Sul canale YouTube, su Twitter, ovunque, troverete anche i ricordi non si lavano della Piemontese, di Ibrea, Aurora, Flora. Ciao, alla prossima!